Una festa dedicata alla commedia italiana internazionale, come di Filfest a Manduria con la presenza di grandi nomi Stefano Fresi, presidente del Comitato d'Onore, Massimo Boldi, Giorgio Tirabassi, Maurizio Mattioli, Manuela Arcuri, Enrico Montesano, Franco Neri Un festival dedicato alla commedia, che tra l'altro è il mio genere preferito, quindi è bello Poi ci saranno tanti artisti, tanti colleghi che saranno qui a parlare delle loro esperienze, del loro lavoro La commedia italiana è un genere che ci ha reso famosi al di fuori dei nostri confini, in cui sono stati maestri straordinari Quindi l'idea di celebrare la commedia, secondo me, doveva venire prima, però accettiamo il fatto che sia venuta adesso a questa commissione straordinaria Che avvenga in questo posto molto molto bello Un'occasione per celebrare l'umorismo in un set cinematografico all'aperto, sicuramente unica per i manduriani da anni privi di un teatro e cinema Che per la prima volta hanno assistito a un red carpet Un fan di? Allora, Manuela Arcuri Da dove vieni? Allora, io vengo da San Milano e De Normani, provincia di Brindis Almeno qualcosa di bello la vediamo qui, e quindi siamo venuti a vederla e assistere all'evento Accolto con entusiasmo dai cittadini e forestieri, meno dei commercianti che per altri due giorni dovranno resistere al blocco del traffico Avere con molta probabilità meno incassi La festa della commedia Manduria in corso 20 settembre ha ospitato diversi cortometraggi e lungometraggi Con l'assegnazione del riconoscimento olivo d'oro ed un premio dei tre direttori per particolari meriti nel campo della commedia Anche una mostra dei bozzetti e delle illustrazioni di Cristian Cordella nell'ex convento degli Agostiniani La città messapica si mostra desiderosa di piacevoli serate Sebbene sia impossibile far finta del Forte Alezzo che anche durante il festival ha ammorbato le strade del paese La commedia deve fare questo, deve raccontare il paese, i mali del paese, gli errori del paese